Con la Farsalia di Lucano, la rivisitazione dell'Epos, attuata da Ovidio nelle Metamorfosi, viene esasperata. Lucano canta l'antimito di Roma e lo fa provocatoriamente, non rovesciando l'Eneide, ma dilatandone le voci più cupe, i dubbi più laceranti. Il poema fu scritto dal 60 al 65 d.C., quando il suicidio del giovanissimo Lucano, ordinato da Nerone, lasciò l'opera incompiuta al decimo libro. Argomento del poema è la guerra civile tra Pompeo e il suo vincitore, Cesare. L'originalità della materia non risiede nel suo carattere storico. Piuttosto è clamoroso l'evento stesso narrato, una guerra di autodistruzione tra familiari, un tema che nella tradizione letteraria era non epico, bensì tragico. Così le regole della tradizione epica sono apertamente aggredite. Al centro del poema non c'è la virtus, ma un crimen. La celebrazione epica di eventi gloriosi si trasforma così in tragica deplorazione di eventi scellerati. Gli dèi, coprotagonisti degli eroi nei poemi precedenti, scompaiono. La storia non è retta dunque da un fato benevolo, ma da una provvidenza crudele che ordisce la rovina di Roma. Sul piano formale, innovativa è la presenza di tre protagonisti. Oltre a Cesare e a Pompeo, rappresentati il primo come impetuoso fulmine, il secondo come quercia veneranda ma ormai spoglia, il saggio Catone, stoico custode della libertas repubblicana, celebrata dal poeta. Disperato cantore di una nefasta guerra civile, Lucano non racconta, ma drammatizza gli eventi. Lo stile, impetuoso e tagliente, è guidato da una continua ricerca di pathos e ricco di sentenze e antitesi utili a rendere il paradossale suicidio di Roma.